Allora, buonasera a tutti, direi di iniziare e passerei subito la parola al segretario per l'appello. Allora, buonasera, facciamo l'appello. Pelloni, Fiorini, Semeraro, Valmori, Ori, Franchi, Cavaliere, Serotti, Uguzzoni, Iattoni, Facci, Covili, Pesci, Zagnoni, Gozzoli, Smeraldi, Cavani, Allora, la Gozzoli assente giustificate, che è influenzata. Allora, nomino gli scrutatori, Iattoni, Franchi e Zagnoni. Allora, prima di iniziare, c'erano anche delle interrogazioni, interrogazioni e interpellanze. Ti dispiace se, visto che abbiamo diversi tecnici, di farlo alla fine, così li liberiamo? Grazie, Smeraldi. Allora, punto numero uno, comunicazione del Presidente del Consiglio. Allora, l'avevo già anticipata anche nella Capigruppo. Dunque, in data 4 luglio 2018, è arrivata una comunicazione della Regione Emilia-Romagna relativamente all'affidamento del Servizio di Difesa Civica Comunale, quella convenzione che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, che prevedeva un contributo annuo simbolico di 100 euro. La Regione ci ha comunicato il 18-12-2018 che dispone che d'ora in poi il servizio sarà, insomma, a titolo totalmente gratuito. Non ci sarà a pagare neanche quella convenzione di 100 euro all'anno. Vi leggo esattamente la comunicazione. Con deliberazione 110 del 4-12, dispone la Regione Emilia-Romagna di rendere gratuite le convenzioni sottoscritte con i Comuni per l'affidamento del Servizio di Difesa Civica Comunale al Difensore Civico Regionale, che per le convenzioni già sottoscritte non si provvederà a richiedere ai Comuni il pagamento del contributo con scadenza del pagamento successivo al 1 gennaio 2019, anche se i servizi di convenzionamento di difesa civica sono stati fruiti in parte nell'annualità precedente. Quindi tutti i pagamenti già programmati con scadenza nell'anno 2019 non dovranno essere più eseguiti, che le convenzioni già sottoscritte proseguono gratuitamente a partire dal 1 gennaio 2019 fino alla scadenza definita per ogni Comune. Allora, abbiamo optato per la comunicazione in Consiglio in quanto la Segreteria Generale si chiedeva se era il caso di rifare la convenzione, però la Regione Emilia-Romagna ha detto che non c'è bisogno, non vi arriveranno più le richieste di pagamento, quindi non c'è da pagare niente. Punto. Allora, punto numero 2, approvazione verbali della seduta precedente. In realtà poi la seduta precedente era solo il Consiglio Comunale Aperto di presentazione, quindi darei per letto il verbale. Quindi punto numero 2, approvazione verbali della seduta precedente. Sono due consigli. Quindi consigli sia del 29 gennaio che del 6 febbraio, quindi non c'è soltanto, c'è anche quello precedente. Non c'è soltanto l'ultimo, ma c'è anche il penultimo, scusate. Li darei per letti, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi l'unanimità. Punto numero 3, regolamento del Museo Civico di Vignola, adozione. Allora, c'è stata la commissione in data 11 febbraio, presente anche la dottoressa Cristina Serafini, che abbiamo con noi anche stasera, che ringrazio, alla quale lascerei la parola, magari per rifare un cappello introduttivo, sorvolando magari i dettagli che abbiamo già discusso in commissione. Grazie, dottoressa. Allora, buonasera a tutti, ringrazio di essere stata invitata. Premetto che è la prima volta che io lavoro al Comune di Vignola da 21 anni, poi in ruoli diversi. È la prima volta che partecipo da questa parte, ho seguito diversi consigli in passato, ma qui non c'ero mai stata. Quindi, se sconfino, se sono troppo, fatemi dei cegni. Credo di essere stata invitata soprattutto, non tanto per l'oggetto tecnico in sé, dopo dirò perché, ma forse anche per umanizzarlo, renderlo un po' più reale e calare quello che in realtà è uno schema, è uno standard che la regione ci fornisce, anche ci indica o ci impone di seguire, ma calarlo un po', insomma, nella realtà del nostro museo di Vignola e dare qualche traccia. Leggerò anche un po', più che leggere, insomma, però seguo, perché sono... una che si potrebbe facilmente perdere, anche perché, insomma, è una materia che può essere anche appassionante, insomma, soprattutto la nostra realtà. Allora, io vorrei cominciare così anche un po' con una battuta per rompere il ghiaccio, facendo riferimento a un articolo che è uscito sulla Gazzetta di Modena due o tre giorni fa, mi sembra il 14 febbraio, in cui si racconta, e si dà l'esito, di una scoperta fatta, direi, l'anno scorso, nei pressi, in una località di Pavullo, di un reperto archeologico, alcune vertebre di Itiosauro, che è una specie di pescecane del passato, che è stato anche trovato in connessione anatomica, ovvero non sono stati trovati dei singoli pezzi sparpagliati, ma quel pezzetto di vertebre, cioè di colonna vertebrale, unita. E è stata presentata alcuni giorni fa, insomma, questo reperto, lo studio che l'università ne ha fatto, credo in sala consigliare a Pavullo, e a un certo punto, insomma, allo scopritore, un geologo modenese, viene chiesto ma dove vedi la collocazione ideale per quello che hai trovato? e lui ha risposto, lo cito dal giornale, quindi non ero presente, in un museo, punto, quello di Vignola. Quello di Vignola sarebbe perfetto perché ha un'importante ala dedicata alla geologia modenese con altri reperti appenninici. Poi gli hanno anche chiesto, ma tu non sei stato tentato di tenertelo, insomma, uno gira, trova una roba, se la metti in tasca e va a casa. E lui ha risposto, i beni culturali sono patrimonio di tutti ed è importante che vadano in luoghi dove tutti possano vederli. Qui potremmo già avere qualche elemento chiave per quello, insomma, che andrò un po' a trattare. Si parla di reperti geologici, paleontologici, e si dice che sono beni culturali, si dice che sono di tutti, si dice che tutti li possono vedere e conoscere, si parla di un rapporto di studio del reperto con la facoltà, con una facoltà, in questo caso l'Università di Modena, però potrebbe essere anche un'altra, insomma, una facoltà di geologia o mineralogia, e poi si fa cenno, anzi si dice, per me il posto ideale sarebbe il Museo di Vignola. Questo ci fa, ci può, far pensare e riflettere su una sorta, scusate se io delle volte sono un po' di parte, ma sono il tecnico preposto, quindi lo conosco, una sorta di reputazione assolutamente positiva che il Museo di Vignola ha, soprattutto nel rapporto che negli anni ha saputo mantenere, tessere, stimolare o recepire con appunto vari studiosi di facoltà universitaria, ci sono stati rapporti con Milano, con Modena, con Bologna, e quindi, e anche, diciamo, nel mondo, non solo degli studiosi, ma anche degli appassionati, perché insomma, siamo pieni, per fortuna, di appassionati paleontologi, studiosi, ricercatori, semplici cittadini che girano e guardano, e la reputazione, ovvero la capacità del Museo di Vignola, nel suo piccolo, con tutti i problemi che ci possono essere, eccetera, di comunque essere museo, e vediamo cosa vuol dire essere museo. Allora, oggi appunto noi si deve trattare, il Consiglio Comunale deve trattare l'adozione del regolamento, io avevo preparato un piccolissimo escursus legislativo per ricordare di cosa stiamo parlando, e quali sono comunque le leggi che dal livello, dalla Costituzione, a tutti i livelli a scendere, ci guidano. Ve lo potrei anche risparmiare, perché forse sono troppo lunga, però, insomma, naturalmente, come è tutto, c'è una legislazione a livello statale, partendo dalla Costituzione, che nei suoi primi articoli rimuove gli ostacoli, o assicura, tutto quello che è possibile fare per la cultura, intendendo cultura a senso alato, per la formazione dei cittadini, per, appunto, l'istruzione, lo studio, ma non solo, e, e quindi, insomma, sempre la Costituzione, poi a livello statale, quello che ci guida è il codice dei beni culturali del paesaggio, un codice, il codice 42, approvato nel 2004, con successive modifiche. All'articolo 1, si dice che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, il patrimonio culturale è l'insieme dei beni che si hanno. Concorrono poi alla tutela, secondo, insomma, il nostro ordinamento e la discesa cascata, concorrono, appunto, allo Stato, e la presenza dello Stato poi si è, esplica territorialmente, attraverso le soprintendenze, con cui la soprintendenza di Bologna e il Museo Civico hanno da sempre rapporti, e anche in soprintendenza, insomma, c'è una certa attenzione al Museo di Vignola e a seguire, naturalmente, le regioni e i comuni. Tutti questi insieme si curano secondo i propri ruoli e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e, importante per noi, ne favoriscono la fruizione pubblica e la valorizzazione. Si dice anche nel corce del paesaggio e poi non lo trattiamo più, che i musei sono luoghi di cultura che espletano dei servizi pubblici. Dopodiché c'è il livello regionale. Per noi la legge di riferimento è la 18 del 2000 che si intitola Norma in Materie di Biblioteche, Musei e Archivi. Questo è importante perché le tre tipologie di luoghi e quindi anche servizi e quindi anche istituzioni culturali vengono trattate insieme. In fondo non c'è tantissima differenza tra una biblioteca un museo e un archivio nel senso che si tratta in ogni caso di conservare, acquisire, valorizzare, rendere fruibile un patrimonio e un bene culturale. I beni culturali sono tutto, insomma, è molto ampia la definizione. La legge regionale assegna delle funzioni ai comuni che sono quelli soprattutto di organizzare i propri servizi culturali, quindi anche il museo, in un modo che siano aperti il più possibile, fruibili il più possibile al pubblico che non siano solo dei servizi culturali ma siano anche servizi informativi cioè che rendano intelligibili i beni che conservano, rendano, diano la capacità e la possibilità a tutti i tipi di pubblico, a tutti i tipi di, alle fasce d'età diverse, eccetera, a chiunque si relazioni con quei beni di poterli in un qualche senso capire a seconda delle proprie esigenze formative. e poi parla anche si dice anche secondo la legge che questi servizi che si devono rendere al pubblico quindi biblioteche, archivi e musei devono essere integrati anche questo è molto importante apre il concetto di rete sia una rete interna cioè che tutti i servizi che un comune può avere possono essere collegati e rafforzarsi l'un l'altro e quello e perché viene assegnato al comune di fare questo per garantire comunque ai propri cittadini il diritto all'informazione alla documentazione e alla formazione permanente anche qui ci stanno tutte le fasce d'età e tutti i tipi di utenti chiamiamolo pubblico quindi i comuni gestiscono istituiscono gestiscono i loro istituti e ne approvano dice la legge regionale i regolamenti e la carta dei servizi i comuni hanno tante altre funzioni che sono di assicurare che i pezzi siano inventariati catalogati conservati promossi valorizzati c'è anche un punto importante nella legge regionale che perché vengono nominati musei civici è l'unica riga dove gli nomi poi dice musei dei comuni dice che i musei civici provvedono anche attraverso i comuni scusate provvedono anche attraverso strumenti urbanistici e con il concorso dei musei civici ad individuare salvaguardare valorizzare dei beni culturali e naturali del proprio territorio questo credo che possa essere sottolineato perché ci sono già nel comune di Vignola delle azioni o degli avvi di azioni che secondo me collegano il museo civico a strumenti urbanistici ad esempio qualcuno forse ricorderà il contratto di fiume il contratto di fiume è un'aggregazione di associazioni portatori di interesse eccetera che lavorano attorno al fiume e penso anche con un'incidenza o con un intento di incidere su uno strumento urbanistico o salvaguardia insomma di questo patrimonio che abbiamo anche uno studio che è stato fatto e finanziato da questo comune per circuntriegno ad opera dell'università di Modena che si è conclusa da poco sull'affioramento del Panaro una particolare concentrazione di rocce argille azzurre insomma una parte vicina alla briglia tra via Zenzana e la briglia che presenta una serie di caratteristiche quasi uniche per il territorio e molto utili per vari tipi di studi sul clima sui pezzi stessi eccetera eccetera ecco questi possono essere degli esempi a mio avviso e a Vignola li abbiamo provati e portati avanti di cosa può essere un museo civico nell'accezione e la legge lo dice anche di presidio di tutela del territorio c'è un punto dove dal punto di vista territoriale si vede un problema o si fa una scoperta si sa che ci possono essere o degli esperti o comunque ci può essere la via di contattare poi anche altri enti preposti e ci può essere appunto la via per esercitare questa funzione di presidio presso di Ropo e molti lo sanno insomma che nel nostro museo è attiva tramite convenzione appena scaduta da tanti anni